Annabeth Annabeth stava cercando di sollevare il morale di Hazel, raccontandole i migliori momenti da testa ad alghe di Percy, quando Frank si precipitò nel corridoio e irruppe nella sua cabina. «Dov'è Leo?» chiese il figlio di Marte col fiato grosso. «Decolliamo, decolliamo!» Le ragazze saltarono in piedi. «Dov'è Percy?» domandò Annabeth. «E la capra?» «Sul ponte. Stanno bene!» Frank si puntellò sulle ginocchia e cercò di respirare. Aveva i vestiti umidi e rigiditi, come se fossero stati lavati nell'amido. «Ci inseguono!» Annabeth lo superò con una spinta e corse su per le scale facendo tre gradini alla volta, con Hazel dietro, e Frank che le seguiva a fatica, ancora con il fiatone. Percy e Hedge erano distesi sul ponte, l'aria esausta. Il satiro aveva perso le scarpe. Sorrideva al cielo come un pazzo, borbottando «Fantastico! Fantastico!» Percy era coperto di graffi e piccole escoriazioni, come se si fosse buttato giù da una finestra chiusa. Non disse nulla, ma afferrò debolmente la mano di Annabeth, come a dire «Tra un attimo solo da te, non appena il mondo smette di girare». Leo, Piper e Jason, che stavano mangiando un boccone immensa, accorsero sul ponte. «Che c'è?» gridò Leo, con in mano un tosto al formaggio smangiucchiato. «Non posso più prendermi neanche una pausa a pranzo? Che succede?» «Ci inseguono!» strillò di nuovo Frank. «Chi ci insegue?» chiese Jason. «Non lo so!» ansimò Frank. «Balene? Mostri marini? Forse Kate e porco!» Annabeth avrebbe voluto strangolarlo, ma non era sicura di riuscire a circondargli il collo con le mani. «Quello che dice non ha senso. Però, Leo, è meglio che ci porti via di qui!» Leo si ficò il toast tra i denti, come la sciavola di un pirata, e corse al timone. Poco dopo, Largo 2 si stava già sollevando in cielo. Annabeth armò una balestra di poppa. Non vede tracce di inseguitori, né balene né altro, ma persi Frank e Edge cominciarono a riprendersi, solo quando lo skyline di Atlanta divenne uno sbaffo confuso in lontananza. «Charleston», disse Percy, zoppicando come un vecchietto. «Sembrava ancora piuttosto scorso». «Facciamo rotta per Charleston». «Charleston». Jason pronunciò quel nome come se gli riportasse alla mente dei brutti ricordi. «Che cosa avete scoperto di preciso ad Atlanta?» Frank aprì lo zaino e si mise a tirare fuori dei souvenir. «Marmellata di pesche, un paio di magliette, una palla di vetro con la neve e… questa cosiddetta trappola cinese». Annabeth si sforzò di mantenere la calma. «Che ne diresti di cominciare dall'inizio… della storia, non dello zaino?» Si riunirono sul cassero di poppa per permettere a Leo di ascoltare la conversazione. Percy e Frank riferirono turno quello che era successo all'acquario, con il satiro che interveniva di tanto in tanto «Ah, questa è stata fantastica!» oppure «E poi le ho mollato un calcio in testa!» Beh, almeno sembrava essersi scordato della notte di Percy e Annabeth in scuderia. Ma a giudicare dalla storia di Percy, Annabeth aveva cose peggiori di cui preoccuparsi. Quando il figlio di Poseidone spiegò delle creature marine in cattività all'acquario, lei capì perché era così turbato. «È terribile», disse. «Dobbiamo aiutarle!» «Lo faremo», promise Percy, al momento giusto. «Ma devo capire come!» «Quanto vorrei che…» scosse la testa. «Lasciamo perdere. Prima dobbiamo affrontare la taglia che ci hanno messo sulla testa.» Edge aveva perso interesse nella conversazione, probabilmente perché lui non c'entrava più, e si trasferì a Prua, a esercitarsi con i calci alla Chuck Norris e a complimentarsi da solo per la propria tecnica di combattimento. Annabeth strinse l'elsa del pugnale. «Una taglia sulla testa? Come se non attirassimo già abbastanza l'attenzione dei mostri!» «Ci faranno anche i manifestini con la scritta «Ricercato?»» chiese Leo. «E le taglie a quanto montano di preciso?» «C'è un listino?» Hazel arricciò il naso. «Di che cavolo stai parlando?» «Sono solo curioso di sapere quanto valgo di questi tempi», replicò Leo. «Cioè, posso capire di non essere prezioso quanto persi o Jason, forse. Ma varrò quanto due o tre Frank messi insieme?» «Ehi!» protestò Frank. «Piantatela!» ordinò Annabeth. «Almeno sappiamo che la nostra prossima tappa è Charleston, per trovare questa mappa». «Una mappa di cosa?» chiese Piper. Aveva ornato la treccia con delle piume bianche, che stavano molto bene sui capelli castani. Annabeth si chiese dove trovasse il tempo. Lei riusciva a malapena ricordare di pettinarsi. Del marchio di Atena. Percy lanciò uno sguardo cauto ad Annabeth, come se avesse paura di avere fatto un passo falso. Non se ne era resa conto, ma forse stava mandando una forte vibrazione con il messaggio «Non ne voglio parlare». «Qualunque cosa sia, sappiamo che conduce a qualcosa di importante a Roma. Qualcosa che potrebbe sanare la spaccatura tra greci e romani», continuò il figlio di Poseidone. «La rovina dei giganti», citò Hazel. «Persi a noi. Nel mio sogno, i giganti gemelli hanno nominato una statua». «Ehm...» Frank si rigirò la trappola non cinese tra le dita. «Secondo Forco dovremmo essere pazzi per cercare di ritrovarla. Ma che cos'è?» Tutti si voltarono a guardare Annabeth. Lei si sentì formicolare il cuoio capelluto, come se i pensieri stessero premendo sul cranio per uscire. «Una statua. Atena. Greci e romani. Gli incubi. E la lite con la madre». Vide i pezzi collegarsi uno a uno, ma non riusciva a credere che fosse vero. La risposta era troppo grande, troppo importante, e faceva troppa paura. Notò che Jason la stava studiando, come se conoscesse esattamente i suoi pensieri e non gli piacessero affatto, proprio come non piacevano a lei. Di nuovo, non potei fare a meno di chiedersi «Perché questo ragazzo mi rende così nervosa? Sta davvero dalla mia parte?» Ma forse era Atena a parlare. «Io...» «Io sono quasi arrivata a una risposta», disse infine. «Ne saprò di più se troviamo questa mappa». «Jason, considerato il modo in cui hai reagito al nome di Charleston, ci sei già stato?» Il figlio di Giove lanciò uno sguardo imbarazzato a Piper. «Sì», ammise. «Io e Reina abbiamo compiuto un'impresa da quelle parti circa un anno fa. Abbiamo recuperato delle armi d'oro imperiale dal CSS Hunley». «Da dove?» chiese Piper. «Cavolo!» esclamò Leo. «Il CSS Hunley è il primo sottomarino militare che abbia mai funzionato. Risale alla guerra civile. Ho sempre desiderato vederlo». «Fu progettato da semidei romani», riferì Jason, «e custodiva una scorta segreta di siluri d'oro imperiale, finché noi non li abbiamo recuperati e riportati al campo Giove». Eise li incrociò alle braccia. «Quindi i romani combattevano dalla parte dei sudisti?» «Considerato che mia nonna era una schiava, posso almeno dire che schifo?» Jason sollevò le mani. «Io non esistevo nemmeno all'epoca, e non è che tutti i romani fossero da un lato e tutti i greci dall'altro. Però sì, che schifo. A volte i semidei fanno le scelte sbagliate». Guardò Hazel con un'espressione mite negli occhi. «A volte, per esempio, siamo troppo sospettosi. Ne parliamo senza pensare». Hazel lo scrutò. Lentamente capì che le stava chiedendo scusa. Jason diede una gomitata a Leo. «Fai!» guaiì il figlio di Efesto. «Cioè, sì, scelte sbagliate. Come, per esempio, quella di non fidarsi dei fratelli della gente che, ecco, forse invece vanno salvati. parlando per ipotesi, eh?» Hazel fece un mezzo sorriso. «Ne va bene. Torniamo a Charleston. Stai dicendo che dobbiamo controllare di nuovo quel sottomarino?» Jason si strinse nelle spalle. «Bheh, mi vengono in mente solo due posti da controllare in quella città. Il museo in cui custodiscono il sottomarino è il primo. Lì ci sono un sacco di reperti della guerra civile. In uno di essi potrebbe nascondersi la mappa. Conosco bene la pianta del posto. Potrei andarci con una squadra.» «Vengo io», ci offrì Leo. «Sembra forte.» Jason annui. Poi si voltò verso Frank, che stava cercando di liberare le dita incastrate nella trappola cinese. «Anche tu dovresti venire. Ci faresti comodo.» Frank sembrava sorpreso. «Perché? Non mi sembra di aver combinato un granché all'acquario.» «Sì, invece», lo rassicurò Percy. «Quel vetro lo abbiamo rotto in tre.» «E poi sei un figlio di Marte», disse Jason. «I fantasmi delle cause perse sono obbligati a servirti. E il museo di Charleston è pieno di fantasmi sudisti. Avremo bisogno di te per tenerli in riga.» Frank deglutì. Annabeth ripensò al commento di Percy sulla trasformazione in pesce rosso gigante e dovette trattenersi dal ridere. Non sarebbe mai più riuscita a guardare l'amico senza immaginarsi una grossa carpa coi. «Va bene.» Frank si rilassò. «Certo.» Poi si guardò le dita, aggrottando la fronte. Non riusciva più a tirarle fuori dalla trappola. «E come si fa?» «Amico, non ne avevi mai vista una.» Leo ridacchiò. «C'è un trucco molto semplice per liberarsi.» Frank tirò di nuovo, ma senza risultati. Perfino Hazel si stava sforzando per non ridere. Frank fece una smorfia di concentrazione e all'improvviso scomparve. Nel punto in cui si trovava prima c'era un'iguana, accovacciata accanto alla trappola cinese. «Bravissimo!» commentò Leo, facendo l'imitazione del centauro Chirone. «È proprio questo, il modo di liberarsi dalle trappole cinesi! Ci si trasforma in iguana!» Tutti scoppiarono a ridere. Frank ritornò a mano, raccolse il giocattolo e lo infilò nello zaino. Poi sorrise imbarazzato. «D'accordo, il museo è uno dei luoghi in cui cercare», disse ansioso di cambiare argomento. «Ma Jason, non avevi detto che ce n'erano due?» Il sorriso di Jason si spense. Qualunque cosa stesse pensando, Annabeth intuì che non era piacevole. «Sì», confermò. «L'altro posto è il Battery, un parco che costeggia il porto. L'ultima volta che ci sono stato, con Reina, lanciò un'occhiata a Piper. Vedemmo qualcosa, un fantasma. Sembrava una specie di damigella del sud che brillava e si aggirava nel parco, fluttuando. Poi Reina ebbe un presentimento e decise che era meglio provare ad avvicinarla da sola. Disse che forse preferiva parlare con una ragazza. Si accostò al fantasma e infatti la damigella le parlò. Tutti rimasero in attesa. «Che cosa disse?» domandò Annabeth. «Reina non vuole dirmelo, ma doveva essere importante», rispose Jason. «Sembrava scossa. Forse era una profezia, una brutta notizia. Reina non si è più comportata con me allo stesso modo da allora». Annabeth riflette. Dopo l'esperienza con gli Eidolon, non le piaceva l'idea di accostarsi a un fantasma, tanto più se si era dimostrato capace di turbare le persone con brutte notizie o profezie. D'altro canto, sua madre era la dea della conoscenza, e la conoscenza era l'arma più potente di tutte. Annabeth non poteva rinunciare a una possibile fonte di informazioni. «Un'avventura per ragazze, allora!» esclamò. «Piper e Hazel possono venire con me!» Annuirono entrambe, anche se Hazel sembrava nervosa. Senza dubbio, dopo gli anni trascorsi negli inferi, aveva una dose di incontri spettrali sufficiente per altre due vite. Gli occhi di Piper, invece, lampeggiarono con un'espressione di sfida. «Se c'era riuscita Reina, poteva riuscirci benissimo anche lei!» Annabeth si rese conto che, se loro sei partivano in missione, Percy sarebbe rimasto da solo a bordo con Edge, una situazione nella quale una fidanzata amorevole non lo avrebbe mai lasciato e non moriva dalla voglia di perderlo di nuovo di vista, dopo tutti quei mesi lontani. Ma era anche vero che Percy sembrava così turbato dall'esperienza con quelle creature marine in cattività, che forse gli avrebbe fatto bene riposare un po'. Cercò il suo sguardo, ponendogli una domanda muta. Lui annui, come a dire «Ma sì, starò bene!» «Ok, è deciso!» Annabeth si rivolse a Leo, che stava studiando la console di guida, con l'orecchio teso ad ascoltare i cigolii e i tichetti di Festus nell'interfono. «Quanto manca, Charleston?» «Bella domanda», borbottò Leo. Festus, si è appena reso conto che abbiamo un grosso stormo di aquile alle calcagne. Il radar è a lunga cittata, ancora non le vediamo. Piper si sporse sulla console. «Sei sicuro che siano romane?» Leo alzò gli occhi al cielo. «No, Pipe, potrebbe sempre essere un gruppo di comunissime aquile giganti che volano in formazione. Ma certo che sono romane!» «Forse possiamo invertire la rotta e fermarci a combattere. Sarebbe una pessima idea», intervenne Jason. «Finiremmo per togliere loro ogni dubbio sul fatto che siamo nemici di Roma». «No, aspettate, ho un'altra idea», disse Leo. «Se facessimo subito rotta per Charleston, arriveremmo in poche ore. Ma le aquile ci raggiungerebbero, e sai che casino. Invece perché non mandiamo fuori un'esca per ingannarle? Nel frattempo prendiamo una piccola deviazione, seguiamo la rotta più lunga e arriviamo a Charleston nella mattinata di domani». Hazel fece per protestare, ma Leo la fermò sollevando una mano e aggiunse «Lo so, lo so, Nico è nei guai e dobbiamo sbrigarci. È il 27 giugno», gli fece notare Hazel. «Dopo oggi ci restano quattro giorni. Poi mio fratello morirà. Lo so, ma così potremmo depistare i Romani e dovrebbe restarci ancora tempo per arrivare a Roma». Hazel si accigliò. «Quando dici dovrebbe», Leo si strinse nelle spalle. «E se dicessi «dovrebbe restarci giusto il tempo D?»» Hazel si prese il volto tra le mani e contò fino a tre. «Direi che per noi è… un classico». Annabeth decise di prenderlo come un semaforo verde. «Va bene, Leo. Di che genere di esca stiamo parlando? Sono felice che tu me lo chieda». Il figlio di Efesto schiacciò qualche pulsante sulla console, ruotò il piatto e premette più volte il pulsante a del telecomando della Wii, il tutto molto rapidamente. Poi gridò nell'interfono «Buford, a rapporto, per favore!». Frank fece un passo indietro. «C'è qualcun altro a bordo? Chi è Buford?». Uno sbuffo di vapore rispose dalle scale e il tavolino meccanico di Leo arrivò sul ponte. Nessuno aveva visto spesso Buford durante il viaggio. Di solito se ne restava in sala macchine. Secondo Leo, aveva una cotta segreta per uno dei motori. Era un tavolino a tre gambe, con il piano in mogano. La base di bronzo ospitava diversi cassetti, meccanismi rotanti e una serie di ventole a vapore. Buford portava una borsa simile a un sacco postale legata a una gamba. Raggiunse con un certo fracasso il timone e produsse un suono simile al fischio di un treno. «Lui è Buford», annunciò Leo. «Dai un nome a tutti i mobili?», domandò Frank. «Amico, un mobile così te lo sogni», replicò il figlio di Efesto sbuffando. «Buford, sei pronto per l'operazione capotavola?». Buford sputò vapore e si avvicinò alla balaustra. La superficie di mogano si divise in quattro spicchi, che si allungarono formando pale di legno. Le pale cominciarono a roteare e Buford decollò. «Un tavolino elicottero?», mormorò Percy. «Devo ammetterlo, è forte. Cosa c'è nella borsa?». «Il bucato sporco di un semidio», rispose Leo. «Spero che non ti dispiaccia, Frank». Frank per poco non si strozzò. «Cosa?». «Inganneremo le aquile facendogli inseguire il nostro odore?». «Ma quelli erano i miei unici pantaloni di scorta!». Leo si strinse nelle spalle. «Ho chiesto a Buford di farli lavare e stirare, già che c'è. Speriamo che lo farà!». Si strofinò le mani e sorrise. «Bene, ottimo lavoro. Ora mi metto a calcolare la nuova rotta. Ci vediamo a cena!». Percy andò a dormire presto, e ad Annavet non restò di meglio che fissare il computer per il resto della serata. Era il portatile di Dedalo, naturalmente. Due anni prima, lei lo aveva ereditato dal più grande inventore di tutti i tempi, ed era pieno zeppo di idee per nuove invenzioni, schemi e grafici, la maggior parte dei quali le erano ancora oscuri. Dopo due anni, qualsiasi altro portatile sarebbe stato datato, ma Annavet si era resa conto che il computer di Dedalo era 50 anni avanti rispetto al suo tempo. Poteva espandersi fino a diventare un PC, rimpicciolirsi in un tablet e addirittura ripiegarsi in un wafer di metallo più piccolo di un cellulare. Era più veloce di qualsiasi computer Annavet avesse mai posseduto, aveva accesso ai satelliti e alle trasmissioni della Efesto TV dall'Olimpo e conteneva programmi capaci di fare praticamente tutto, a parte allacciare le scarpe. O forse c'era un app anche per quello, solo che Annavet non l'aveva ancora trovata. Era seduta sul letto e usava un programma di rendering tridimensionale per studiare un modello del partenone di Atene. Aveva sempre desiderato vederlo di persona, sia perché amava l'architettura, sia perché era il tempio più famoso dedicato alla madre. E finalmente avrebbe esaudito quel desiderio, se fossero riusciti ad arrivare vivi in Grecia. Solo che più pensava al marchio di Atene e alla vecchia leggenda romana a cui aveva accennato Reina, più si innervosiva. Non ne aveva nessuna voglia, ma ripensò alla lite che aveva avuto con la madre. Sebbene fossero passate settimane, le parole che le aveva detto bruciavano ancora. Annavet era appena scesa dalla metropolitana, di ritorno da una visita alla mamma di Persi sull'Upper East Side. Durante i lunghi mesi dell'assenza di Persi, aveva fatto quel viaggio almeno una volta alla settimana, in parte per aggiornare Sally Jackson e suo marito Paul sulle ricerche, e in parte perché lei e Sally avevano bisogno di tirarsi su il morale a vicenda e convincersi l'un l'altra che Persi stava bene. La primavera, in particolare, era stata dura. All'epoca, ormai, Annavet aveva ragione di sperare che Persi fosse ancora vivo dal momento che il piano di Hera sembrava implicare una sua missione nel campo romano, ma non sapeva ancora dove fosse. Jason era riuscito a ricordare l'ubicazione del proprio vecchio campo solo approssimativamente, ma nessuna forma di magia greca tentata fino ad allora, inclusa quella dei figli di Ecate, era riuscita a confermare che Persi era là o in qualunque altro luogo. Sembrava scomparso dalla faccia della terra. Rachel, l'oracolo, aveva cercato di leggere nel futuro, eppur non avendo visto molto, si era detta certa che Leo dovesse finire Largo 2, prima che potessero contattare i romani. Ciò nonostante, Annavet aveva trascorso ogni minuto libero, a indagare tutte le possibili voci sul conto di Persi. Aveva parlato con spiriti della natura, letto antiche leggende romane, spulciato i quaderni di Dedalo a caccia d'indizi, e speso centinaia di dracme d'oro per inviare messaggi iride a ogni spirito amichevole, semidio o mostro che avesse mai conosciuto. Tutto in vano. Quel particolare pomeriggio, di ritorno da casa di Sally, Annavet si sentiva più svuotata del solito. Lei e Sally prima avevano pianto insieme e poi avevano cercato di ricomporsi, ma avevano i nervi a pezzi. Alla fine, Annavet aveva preso la metro a Lexington Avenue, per la stazione centrale. C'erano altri modi per arrivare al dormitorio della scuola, ma lei piaceva passare per la Grand Central Terminal. Il magnifico progetto architettonico e il vasto spazio aperto le ricordavano l'Olimpo. I grandi edifici la facevano sentire meglio. Forse perché trovarsi in un luogo così stabile faceva sentire stabile anche lei. Aveva appena oltrepassato Dolcezze d'America, il negozio di dolciumi in cui un tempo lavorava la mamma di Percy, e stava pensando di tornare indietro a comprarsi delle caramelle blu in nome dei vecchi tempi. Quando vide Athena, che studiava la mappa della metropolitana sulla parete. Madre! Annavet non riusciva a crederci. Non la vedeva da mesi, da quando Zeus aveva chiuso le porte dell'Olimpo e proibito le comunicazioni con i semitei. Aveva cercato molte volte di ricorrere comunque a lei, supplicando la sua guida, bruciando offerte a ogni pasto del campo. Non aveva ricevuto risposte. E invece Athena era lì, con indosso una camicia di flanella rossa, jeans e un paio di scarponcini da trekking. I capelli erano sciolti sulle spalle. In mano aveva uno zaino e un bastone, come se si apprestasse a partire per un lungo viaggio. «Devo tornare a casa», mormorò, studiando la mappa. «La via è complicata. Vorrei che Ulisse fosse qui». Lui capirebbe. «Mamma!» esclamò Annabeth. «Athena!» La dea si voltò. Sembrò attraversarla con lo sguardo, come se non la riconoscesse. «Sì, era così che mi chiamavo», disse in tono sognante. «Prima che saccheggiassero la mia città. Prima che mi togliessero l'identità. Prima che mi facessero questo!» Si guardò i vestiti, disgustata. «Devo tornare a casa». Annabeth arretrò, sconcertata. «Tu sei... sei Minerva! Non chiamarmi in quel modo!» Gli occhi grigi della dea si sgranarono di rabbia. «Una volta avevo una lancia e uno scudo. tenevo la vittoria nel palmo della mano. Ero molto più di questo». «Mamma!» Ad Annabeth tremava la voce. «Sono io, Annabeth! Tua figlia!» «Mia figlia!» mormorò Athena. «Sì, i miei figli mi vendicheranno. Devono distruggere i Romani!» «Quegli orribili Romani! Quei copioni!» Privi del minimo senso dell'onore. «Era voluto che tenessimo separati i due campi. Io le ho detto di no, che combattano!» «Lasciamo che i miei figli distruggano gli usurpatori!» Annabeth si sentiva il cuore martellare nelle orecchie. «Tu volevi una cosa del genere! Ma tu sei saggia! Capisci le regole della guerra meglio di chi...» «Un tempo!» esclamò la dea. «Rimpiazzata! Saccheggiata! Sottratta come bottino di guerra e portata via a forza! Via dalla mia amata terra!» «Oh, quanto ho perso! Giuro che non perdonerò mai, né lo faranno i miei figli!» Si concentrò su Annabeth e finalmente la mise a fuoco. «Tu sei mia figlia!» «Sì!» La dea pescò qualcosa dalla tasca della camicia, un vecchio gettone della metropolitana di quelli che non si usano più, e lo premette nel palmo della mano di Annabeth. «Segui il marchio di Atena! Vendicami!» Annabeth aveva guardato la moneta e sotto il suo sguardo il gettone della metropolitana si era trasformato in un'antica dracma d'argento, di quelle in uso presso gli ateniesi. Mostrava una civetta, l'animale sacro ad Atena, con un ramo d'ulivo su un lato e un'iscrizione greca sull'altro. Il marchio di Atena. All'epoca Annabeth non aveva idea di cosa significasse. Non capiva perché la madre si comportasse in quel modo. Minerva o Atena che fosse non avrebbe dovuto essere così confusa. «Mamma!» Si sforzò di assumere un tono ragionevole. «Persi è scomparso! Ho bisogno del tuo aiuto!» Aveva iniziato a spiegarle il piano di Hera per unire i due campi nella battaglia contro Gea e i giganti. Ma la dea aveva picchiato il bastone sul pavimento di marmo. «Mai! Chiunque aiuti Roma deve morire! Se ti unirai a loro non sarai più figlia mia! Mi hai deluso!» «Madre, non mi importa un bel nulla di questo Persi. Se è passato dalla parte dei romani, deve morire! Uccidilo! Uccidi tutti i romani! Trova il marchio, seguilo fino alla sua fonte! Guarda con i tuoi occhi come Roma mi ha disonorata! E sferra la tua vendetta!» «Atena non è la dea della vendetta!» Annabeth affondò le unghie nei palmi. La moneta d'argento sembrava scaldarsi nella sua stretta. «Persi è tutto per me!» «E la vendetta è tutto per me!» ringhiò la dea. «Chi di noi è la più saggia?» «Tu non stai bene! Cosa ti è successo?» «Roma, ecco cosa mi è successo!» rispose la dea, piena di rabbia. «Guarda che cosa mi hanno fatto, rendendomi romana! Vogliono che io sia una loro dea! Allora che assaggino il male che loro stessi hanno fatto!» «Uccidili, figlia mia!» «No! Allora non sei niente per me!» La dea tornò a rivolgersi verso la mappa della metropolitana. Il suo viso si addolcì, divenne confusa, distratta. «Se solo io riuscissi a trovare la rotta, la strada di casa, allora forse...» «Ma no! Vendicami o vaddene!» «Tu non sei mia figlia!» Annabeth aveva sentito gli occhi bruciare di lacrime. Avrebbe voluto risponderle con mille cattiverie, ma non c'era riuscita. Si era voltata ed era corsa via. Aveva cercato di gettare la moneta d'argento, ma quella non faceva altro che ricomparirle in tasca come vortice compersi. Solo che purtroppo la dracma non aveva poteri magici, niente di utile quantomeno. Si limitava a procurarle degli incubi. Per quanto lei ci avesse provato, non era riuscita a sbarazzarsene. Seduta nella propria cabina a bordo del Largo 2, Annabeth sentiva la moneta che si scaldava in tasca. Fissò il modello del partenone sullo schermo del computer e continuò a rimuginare sulla lite con Athena. Frasi che aveva sentito nel corso degli ultimi giorni le turbinavano nella testa. Un'amica talentuosa pronta a ricevere la sua visita? Nessuno porterà via quella statua. La figlia della saggezza da sola camminerà. Temeva di avere finalmente capito il significato di tutti quei misteri. Pregò gli dei di essersi sbagliata. D'un tratto qualcuno bussò alla porta facendola trassalire. Sperava che fosse persi, ma fu Frank Jung a fare capolino. Ehm, scusa, posso... Annabeth era così stupita di vederlo che ci mise un attimo a capire che le stava chiedendo il permesso di entrare. Certo, rispose, accomodati. Il figlio di Marte entrò guardandosi intorno. Non c'era molto da vedere. Sulla scrivania c'erano una pila di libri, un diario con una penna e una fotografia del padre di Annabeth, alla guida del Soap with Camel, che sorrideva e alzava i pollici. Ad Annabeth piaceva quella foto. Le ricordava i giorni in cui si era sentita più vicina al padre, quando lui, a bordo del proprio biplano d'epoca, aveva crivellato di proiettili un esercito di mostri, con mitragliatrici di bronzo celeste, solo per proteggere lei. In pratica, il regalo più bello che una ragazza potesse desiderare. Appeso a un gancio del muro, c'era poi il berretto degli Yankees, il regalo più prezioso mai ricevuto da Atena. Un tempo, il berretto aveva il potere di rendere invisibile chiunque lo indossasse. Dopo l'ultima lite, però, aveva perso quella dote. Annabeth non avrebbe saputo dire il perché, ma si era ostinata a portarlo con sé anche in quell'impresa. Lo provava tutte le mattine, sperando che avesse ripreso a funzionare. Fino ad allora era servito solo a ricordarle l'ira di sua madre. Per il resto, la cabina era spoglia. Annabeth la teneva pulita e sobria, per riflettere meglio. Percy quasi non ci credeva, considerati i suoi ottimi voti, ma come la maggior parte dei semidei, anche Annabeth era dislessica e soffriva di disturbi dell'attenzione. Quando c'erano troppe distrazioni nel proprio spazio personale, non riusciva a concentrarsi. Allora, Frank, esordì con una certa esitazione, che cosa posso fare per te? Di tutti i ragazzi a bordo, era quello da cui meno si aspettava una visita. La sua perplessità non diminuì quando lo vide tirare fuori da una tasca la trappola cinese. Non mi piace non sapere come funzionano le cose, borbottò il figlio di Marte. Potresti insegnarmi il trucco? Sei l'unica a cui mi sento di chiederlo. Annabeth assimilò le sue parole con un leggero ritardo. Frank le stava chiedendo aiuto. Poi ci arrivò. Ma certo, era imbarazzato. Leo gli stava dando il tormento e a nessuno piace essere l'oggetto di derisione degli altri. L'espressione determinata che Frank aveva in viso chiariva le sue intenzioni. Non voleva che succedesse di nuovo. Non voleva più ricorrere alla soluzione dell'iguana. Annabeth si sentì stranamente lusingata. Frank si fidava di lei, sapeva che non lo avrebbe preso in giro. E poi lei aveva un debole per chi cercava di conoscere le cose, anche se si trattava di cose semplici come la trappola cinese. Diede dei colpetti sul letto accanto a sé. Ma certo, siediti. Frank si sedette sul bordo del materasso, come per tenersi pronto a una rapida fuga. Annabeth prese il giocattolo e lo avvicinò al computer. Piggiò un tasto e attivò la scansione a infrarossi. Pochi secondi dopo, un modellino 3D della trappola cinese comparve sullo schermo. Girò il portatile per mostrarlo a Frank. Come hai fatto? Si meravigliò lui. Antica tecnologia greca di ultima generazione, replicò la figlia di Atena. Va bene, guarda. La struttura è una treccia cilindrica biassiale, per questo ha un'ottima resilienza. Manipolò l'immagine, che si strinse come una fisarmonica. Quando ci infili dentro le dita, si allenta. Ma quando cerchi di toglierle, la circonferenza si stringe e la treccia con lei. Liberarsi tirando via le dita è impossibile. Frank la guardò con l'aria di non averci capito nulla. Ma qual è la soluzione? Beh, Annabeth gli mostrò come la trappola riusciva a resistere agli strappi anche sottoposta a grande pressione, a seconda del materiale usato per la treccia. Non è stupefacente per una struttura intrecciata? I dottori la usano per la trazione nelle fratture e i fornitori di energia elettrica è... ma la soluzione? Annabeth sorrise. Non si fa resistenza e non si lotta. Invece di tirare, devi spingere le dita ancora più dentro, così l'attriccia si scioglie. Oh, Frank ci provò. Funzionò. Grazie, ma non avresti potuto mostrarmelo con la trappola che ho qui, invece che con un programma 3D e tutti quei calcoli? Annabeth esitò. A volte la saggezza si trova nei luoghi più imprevisti, si disse. Anche un pesce rosso gigante può darti una lezione. Hai ragione. Che sciocca! Anch'io ho imparato qualcosa, quindi. Frank fece un'altra prova. È facile quando conosci la soluzione. Molte delle migliori trappole sono semplici, affermò Annabeth. Devi solo rifletterci bene e sperare che la tua vittima non faccia altrettanto. Frank annui. Però sembrava ancora riluttante ad andarsene. Leo non lo fa apposta, non vuole essere cattivo, disse la figlia di Atena cambiando discorso. È solo un gran chiacchierone. Quando qualcuno lo rende nervoso, si difende con le battute. Frank aggrottò la fronte. E perché io dovrei renderlo nervoso? Sei grande il doppio di lui. Puoi trasformarti in un drago. E piaci a Hazel, pensò Annabeth, ma non lo disse. Il figlio di Marte sembrava poco convinto. Leo può evocare il fuoco. Si rigirò la trappola cinese tra le mani. Annabeth, una di queste volte potresti aiutarmi con un problema che non è così semplice. Io ho quello che si dice un tallone d'Achille. Ad Annabeth sembrò di aver appena bevuto un sorso di cioccolata. Frank le comunicava una sensazione del genere, calda e accogliente. Era una specie di grande orsacchiotto. In quel momento capì cosa ci trovasse Hazel. Con molto piacere, rispose. C'è qualcun altro conoscenza di questo tallone d'Achille? Percy è Hazel. E basta, rivelò Frank. Percy è un gran bravo ragazzo. Lo seguirei ovunque. Volevo che lo sapessi. Annabeth gli diede dei colpetti rassicuranti sul braccio. Percy ha un vero talento per scegliersi gli amici. Buoni amici come te. Ma puoi fidarti di tutti su questa nave. Anche di Leo. Siamo una squadra. Dobbiamo fidarci gli uni degli altri. Sì, hai ragione. Allora, qual è la debolezza che ti preoccupa? La campana della cena suonò in quell'istante. Frank trassalì. Magari, magari più tardi. È difficile parlarne. Ma ti ringrazio. Grazie, Annabeth. Sollevò la trappola cinese. E ricorda, cerca la soluzione più semplice.